Bella a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovissimo video di Fortnite Ecco voi il vostro LLegati97 Siamo molto vicini alla prossima season e io non vedo l'ora Oggi stiamo con MechaDragon e ci aiuteremo a vicenda a completare alcune missioni Per ottenere la skin di Spider-Man bianco Come sempre vi chiedo di iscrivervi al canale per supportarmi Di attivare la campanella delle notifiche Di lasciare un bel pollicione in su se questo video vi piacerà E io vi lascio al video, buona visione Uno morto Un altro morto Tu stai facendo po' per di fare le mie mie trecentate Tu stai facendo po' per di fare le mie trecentate E' anche se tu mi copre a chi Vai stai vivendo a partire Vai a me, non mi metti Vai a me, non mi metti 19, 19, e là 19, e là Porco, due Voi pushate, mi vado a aprire l'Aidrop E bisogna compensare un po' eh Sì, fa cadare Non era una mitra Sì, o arrivano un po' di qualcuno Sì, fa cadere Sì, fa cadere Sì, fa cadere Sì, fa cadere Bello il Lack Va a cercare Sì, fa cadere Ho atterrato uno Ah, non c'è da scegliere ora posto stai zitto e vabbè è un altro sì però quando sto giocando dovete far silenzio non potete uno che fa facciamo cadere la cosa dal castello salite sopra non lo faccio cadere prendo un po di materiali hai rubato già tutto e c'è un tipo ma pensa è un disaurato la vita è sempre in mezzo ma pensa a te no mi spara il cretino è c'è gente è morto e se tu muori da partigiano o bello c'è gente ce n'è un altro è capivo c'è albero di merda mi fa vedere un cazzo vai più momenti later putt per un altro è mi sparano chiaro che fai s***o proprio hai shield? si guarda no dove c'è il mitra c'è uno big e basta sono una big guy e poi ne ho un'altra se vuoi tu sei l'ora quasi in parte a te non è più big si da dietro ma mi dai colpi a r cioè nel senso io come faccio a combattere? vai 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 mi ha scordato te vai 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 mi ha scordato te vai 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 mi ha scordato te ho ucciso è big alla fine ci sono un po' di splash si comunque ne ho tre ho tre big io ancora frate in quel potenza ci sono amici? uno 198 se sbucca la tezza è morto frate me mi ha distrutto eh io sono sceso loro sono qua zio ma che cazzo ci fa qua? ma addio io ero uno di sotto adesso è di sopra dove andiamo? dove c'è il gemma? da me ci sono nemici, e io la sto lottando ora ma io vorrei un pompa ma dove c'è da me? ma da me c'è un tipo zio c'è un tipo ci sono due tipi nelle tue ex strutture non ho un po un paio se ci vediamo a quattro colpi la rete in cui mi sono nascosto una bianchissimo ma adesso ora andiamo a pushare e bianco è è morto morto siamo rimasti in 17 noi abbiamo ucciso due persone mi siamo 10 team quindi 8 doppi ma porca sta guardando la mappa che cazzo vogliono io non so dove siano sono lì ma cosa ho già caricaricato ma perché ho finito i colpi ma dio non capivo perché sparava ti prego uccidili prendimi qualcosa dai il mitra e tira il mio io devo andare a prendere qualcosa allora questo è mio questo è mio questo è mio questo non so cosa farmene però è meglio di che lascia io mi dà i colpi ti prego allora c'è qualcosa di agendario cosa fai a prenderli tu si che ne dici andiamo la insieme c'è già gente ho giunto una è sopra di me mi ha distrutto non ho capito come mi ha distrutto non ho capito ma è bianco grande vai di pompa vai 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 non così no se tu pensi di entrare di pompa andiamo qua dai ho una pistola bianca e una tenda io invece ho R bianca e metro bianca ho trovato una R bianco io invece ho già fatto 5 kill c'è gente a pinacoli no no c'è c'è targa mi sapevo c'è chi è morto c'è un tipo dietro di me è là doppio 19 98 1 a terra ah l'hai ucciso tu ah non capivo perché fosse morto zio tieni il cecchino tieni il cecchino c'è gente là sì io invece mi sapevo presa un assalto epico doppio 21 triplo 21 aspetta faccio una cosa quanto cazzo fa male la safe in questo momento 20 20 anche io sta scendendo 33 33 è morto ce n'è un altro no but è un po' bianco io è un po' bianco io è un po' bianco io è un po' bianco però l'ora se ce la fai restami l'ora l'ora dai dai ah proprio così pensavo avevi un po' di più di uno schifo di vita dopo di guardare quanto vi toghi siamo due contro uno il problema è che l'uno sono io sono sopra vero? non sono sopra se usavo il mitra era meglio andiamo al deposito truciolandia no no è qua ma dove cazzo è? andiamo dalla taglia beh che devo fare 10.000 taglia ancora l'ora nemici credo siano morti tutti e due io morirò perché non lo vedo un'aziusa grande la corona occhio poiché c'è un tipo è davanti a noi non so vedi che c'è siamo due contro due contro uno sotto che spari no 23 bianco zio c'è un tipo c'è un tipo da me no 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 dove cos'è l'altra c'è un'altra c'è un po' a dove c'è un po' a ma dove c'è un po' a Ho prendato la Dietro collina Ascoltami andiamo in safe Dopo lui arriverà La safe da lui Scaricati il controllo Ho preso ora quello nuovo No no ho cambiato controllo Colpito doppio 22 33 E' bianco e se non si è curato E' bianco No 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 Lore 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 Vieni a prenderlo Sì vengo a prenderti Guarda dove sono Non voglio perdere ancora Ti prego Ti prego là Fini giù questa partita Ti prego Si è lanciato Ho fatto ok Sicurati Curati tutto Tieni ti do i muri Fatti con i muri Quelli là Che va lo caras Che va lo caras Che va lo caras In questo video non puntavamo a fare una vittoria reale ma a salire di livello e direi che questo secondo posto ce lo siamo meritati spero che questo video vi sia piaciuto come sempre vi chiedo di iscrivervi al canale per supportarmi di attivare la campanella delle notifiche di lasciare un bel pollicione in su se questo video vi è piaciuto e fatemi sapere se voi avete già Spider-Man bianco perché a me manca poco per potermelo acquistare e noi ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi ciao 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 ciao